Siamo nella stagione delle Urie. Da aprire all'inizio di maggio, giusto prima che comincino ad arrivare i bagnanti da Parigi, improvvisamente fanno la loro comparsa sulla spiaggetta dietro età alcuni signori anziani con gli stivali e comprasse in abiti da cacciatori. Passano tre o quattro giorni nell'albergo di Oville. Spariscono, tornano dopo tre settimane e dopo un'altra sosta vanno via definitivamente. Si rivedono durante la primavera dell'anno successivo. Sono gli ultimi cacciatori di Urie, i vecchi che sono rimasti vivi. Trenta o quarant'anni fa erano una ventina di fanatici. Adesso quei cacciatori arrabbiati sono pochi. L'Uria è un rarissimo uccello migratore dalle strane abitudini. Passa quasi tutto l'anno vicino a Terra Nova, alle isole Saint-Pierre e Michelon. Nel periodo degli amori uno stormo di migratori attraversa l'oceano e ogni anno viene a deporre le uova e a covarle, sempre nel medesimo luogo, chiamato appunto lo scoglio delle Urie, nei pressi di Etretà. Si trovano là e solo là. Ci sono sempre venuti, le hanno sempre cacciati e ci tornano ancora. Torneranno sempre. Appena i piccoli sono cresciuti, le Urie rivanno via e per un anno spariscono. Perché non scelgono un altro posto della lunga scogliera bianca e uniforme che dallo stretto di Calais arriva sino alle Havre? Quale forza, quale istinto superiore, quale abitudine secolare spinge le Urie a tornare qui? Quando avvenne la prima migrazione in cui probabilmente una tempesta gettò i loro padri su questo scoglio. E perché i figli, i nipoti e tutti i discendenti dei primi vi sono sempre tornati? Non sono molti, al massimo un centinaio, come se un gruppo solamente osservasse ancora quella tradizione compiendo quel pellegrinaggio annuale. Ogni primavera, quando lo stormo ha preso dimora sullo scoglio, fanno la loro apparizione in paese i soliti cacciatori. Li conoscevano da giovani e adesso sono vecchi, ma sempre fedeli all'appuntamento che hanno da 30 o 40 anni. Non mancherebbero per nessun motivo al mondo. Era una sera d'aprile di uno di questi ultimi anni. Erano già arrivati tre dei vecchi cacciatori di Urie. Ne mancava uno, il signor Arnel. Non aveva scritto a nessuno, né aveva dato qualche notizia di sé. Eppure non era morto, come tanti altri. Lo avrebbero saputo. Alla fine quelli che erano già lì si misero a tavola, stanchi di aspettare. E stavano alla fine della cena, quando udirono le ruote di una carrozza nel cortile dell'albergo. Subito dopo entrò il ritardatario. Si sedette allegrissimo, struppicciandosi le mani. Mangiò di buon appetito e rispose placidamente a uno dei compagni che si stupiva del fatto che egli indossasse una finanziera. Ah già, non ho avuto il tempo di cambiarmi. Andarono a letto subito dopo essersi alzati dalla tavola, perché bisogna partire prima che faccia giorno per poter sorprendere gli uccelli. Non c'è niente di più bello di una caccia di questo tipo, di una passeggiata mattutina come questa. Alle tre i marinai svegliarono i cacciatori buttando della sabbia sui vetri delle finestre. Dopo pochi minuti scendono sul greto, già pronti. L'alba è ancora lontana, ma le stelle sono già impallidite. Il mare carezza i ciottoli e la brezza è tanto forte da far rabbrividire, nonostante gli abiti pesanti. Poco dopo le due barche, sospinte dai marinai, scivolano veloci sul pendio di ciottoli rotondi, con rumore di tela strappata. Poi si dondolano sulle prime onde. La vela scura sale verso la sommità dell'albero, si gonfia appena, palpita, esita e di nuovo si gonfia, prominente come una pancia. Porta le chiglie incatramate verso il grande scoglio bucherellato, che nel buio si distingue appena. Il cielo schiarisce, le tenebre sembrano liquefarsi. La costa appare ancora come dietro un velo, l'alta costa bianca, dritta come un muro. Varcano la manporta, enorme volta sotto cui potrebbe passare una nave. Superano la punta di Curtin. Ed ecco l'esigua valle di Antifer e il capo che porta lo stesso nome. Un tratto vedono una spiaggetta su cui riposano centinaia di gabbiani. Ecco lo scoglio delle Urie. È soltanto una gobbetta della scogliera. Sulle strette sporgenze della roccia appaiono teste di uccelli che osservano le barche. Stanno immobili, in attesa. Ancora non osano prendere il volo. Alcuni di loro, piantati su sassi più alti, sembrano seduti e assomigliano a bottiglie, perché hanno le zampette tanto corte che quando camminano è come se pattinassero sulle rotelle. Per prendere il volo, non riuscendo a darsi lo slancio, arrivando fin quasi al posto in cui gli uomini sono in agguato. Sono coscienti di questo loro difetto e del pericolo che ne deriva, per cui esitano molto prima di tentare la fuga. Ma allora i marinai cominciano a vociare alto, a battere con le caviglie di legno sul fasciame. E allora gli uccelli, impauriti, a uno a uno si slanciano nel vuoto, precipitando a filo dell'acqua. Poi, battendo velocemente le ali, volano, volano verso il largo, se prima una gradinata di pallini non li butta ancora nell'acqua. Li colpiscono a mitraglia in questo modo per un'ora o due, costringendoli ad andarsene uno dopo l'altro. Qualche volta le femmine che stanno covando non se ne vanno dal nido e allora ricevono ad una ad una le scariche che fanno schizzare sullo scoglio bianco le goccioline rosa del loro sangue. Muoiono senza aver abbandonato le uova. Il primo giorno il signor Darnell cacciò col solito impeto, ma quando tornarono indietro verso le dieci, sotto l'alto sole d'arteggiante, che formava grandi triangoli luminosi tra le insenature della costa, apparve un po' preoccupato, persino assorto in cupi pensieri, contrariamente al solito. Appena furono arrivate in paese, una specie di domestico, vestito di nero, si avvicinò per parlargli sotto voce. Egli parve pensieroso, esitante, poi rispose «No, domani». Il giorno dopo ricominciò la caccia. Questa volta il signor Darnell fece parecchie volte cilecca, persino se gli uzzelli si erano lasciati cadere quasi sulla canna del fucile. Gli amici gli domandavano, cieliando, se fosse innamorato, se un qualche segreto turbamento gli sconvolgesse cuore e mente. Alla fine fu costretto ad ammetterlo. «È vero, sì, devo andare via subito. E me ne dispiace molto». «Come? Andate via? E perché?» «Ho un affare importante. Non posso trattenermi ulteriormente». Cambiarono discorso. Alla fine della colazione riapparve il domestico vestito di nero. Il signor Darnell ordinò che fossero attaccati i cavalli e l'uomo stava per uscire, quando si intromisero gli altri tre cacciatori insistendo, pregando e scongiurando per trattenere l'amico. E infine uno di loro domandò «E insomma, quest'affare non deve essere poi tanto importante, dato che avete già aspettato due giorni». Il cacciatore molto esitante stava riflettendo. Si capiva che era evidentemente combattuto tra i suoi piaceri e i suoi obblighi, scontento e turbato. Dopo aver riflettuto lungamente, sussurrò esitando. «Il fatto è che non sono solo. C'è mio genero». S'alzarono grida ed esclamazioni. «Vostro genero? E dove sta?» Lui sembra confuso improvvisamente e arrossì. «Come? Non lo sapete? È nella rimessa. È morto». Seguì un silenzio pieno di stupori. Sempre più turbato, il signor Darnell continuò «Ho avuto la sciagura di perderlo e mentre ne riportavo il corpo a casa, a Briseville, ho fatto una piccola deviazione per non mancare al nostro appuntamento. Ma capirete che non posso più trattenermi». Uno dei cacciatori trovò il coraggio di chiedere. «Oramai? È morto? Mi sembra che potrebbe aspettare una giornata ancora. O no?» Gli altri due non ebbero più esitazioni. «Ah sì, non c'è alcun dubbio», dissero. Il signor Darnell sembrò sollevato ad un gran peso, ma era ancora un po' preoccupato e domandò «Ma vi pare che... veramente?». Gli altri tre risposero in coro «Perbacco, due giorni di più o di meno che volete che gli facciano, nelle sue condizioni». Completamente rassicurato, il suocero si rivolse al funzionario delle pompe funebri. «Va bene, allora fissiamo per dopodomani». Grazie a tutti.